Ciao a tutti, oggi è mercoledì e ho deciso di portarvi in questa giornata con me e quindi vi do il benvenuto in questo daily vlog. Come molti di voi sapranno, in questa settimana mi sto dedicando allo sviluppo del mio prossimo corso su Skillshare che uscirà, prevedo, verso metà novembre e quindi vi porterò in questa giornata lavorativa, vedrete anche un po' le registrazioni del corso e che cosa faccio per svilupparlo. Inoltre oggi dovrebbero arrivarmi anche due libri che ho ordinato qualche giorno fa da Amazon, quindi spero vivamente di farveli vedere. A fine giornata poi vi anticiperò anche qualche contenuto che sarà presente qui sul canale verso dicembre, saranno in arrivo infatti tanti video creativi e non vedo l'ora perché sono i miei preferiti. Questa mattina sono già uscita a fare la mia passeggiata fuori, ancora ci sono delle giornate bellissime, piene di sole, le giornate di pioggia sono veramente poche, quindi ne sto approfittando anche perché le restanti otto ore della giornata poi le passo seduta davanti al computer e sento che un po' di attività fisica mi fa bene non solo per il corpo ma anche per la mente. Bene, iniziamo questa giornata, io mi sposto adesso nell'altra stanza dove inizierò a lavorare il corso. Eccomi qui alla scrivania, risponderò a qualche mail e poi continuerò con gli script delle lezioni che ho già iniziato nei giorni scorsi e per i miei corsi ma anche per i video qui sul canale preparo sempre uno script e quindi un discorso di tutto quello che andrò a dire e spiegare. Questo per me è un passaggio fondamentale e infatti avere dei contenuti ragionati e pronti mi permette di assicurare dei contenuti di maggiore qualità. Inoltre non rischio di dimenticarmi cose o passaggi fondamentali da spiegare soprattutto quando si tratta di corsi. Per chi fosse nuovo qui sul canale o non ha idea cosa stia lavorando, questo sarà un corso sul disegno a linea continua. In altre parole è una tecnica in cui il disegno viene realizzato senza alzare la penna dal foglio. Avrete sicuramente già visto tante illustrazioni realizzate con questa tecnica perché al momento sono un vero e proprio trend. Io mi sono avvicinata a questo stile proprio perché dopo aver visto una di queste immagini mi sono innamorata fin da subito. Trovo che siano molto essenziali ed eleganti. Nel corso dei mesi poi ho sviluppato un metodo per realizzare disegni con questa tecnica perché in realtà quando è stata l'ora di imparare non ho potuto trovare quasi niente, né tutorial né corsi e quindi col tempo e provando ho individuato un metodo che mi permettesse di arrivare al risultato finale, quindi passare da un'immagine complessa all'essenza del soggetto principale e questo sarà parte del contenuto del corso. Sono le tre e sono appena rientrata a casa perché oggi era giorno di spesa, ho appena finito di sistemarla e direi che è un buon momento per far merenda. Per ora mi preparo un po' di ananas e l'accompagno a un quadretto di cioccolato fondente ma sicuramente più tardi mi farò anche qualcosa di caldo. Buona notizia, è passato il corriere quando ero proprio a fare la spesa e fortunatamente mi ha lasciato il pacco nella buchetta e così posso farvi vedere i libri che ho ordinato. Non so voi ma io quando ricevo un pacco anche se ordino una sciocchezza mi mette sempre di buon umore. Il primo libro è Manifestare con la luna di Alessandra Donati, come sfruttare il potere della luna per realizzare i tuoi desideri. Con questo libro entriamo in un ambito molto spirituale e capisco che magari molti di voi saranno molto scettici ma in realtà era da un po' di tempo che ero molto incuriosita su conoscere le fasi lunari, tratta anche della gratitudine, la legge dell'attrazione, tutti argomenti che a me incuriosiscono molti quindi non vedo l'ora di leggere. Passando al secondo libro invece è un journal guidato che è realizzato da un artista che si chiama Elisabeth Ermenkova. Questo diario è totalmente realizzato con illustrazioni fatte a mano realizzate con gli acquarelli ed è molto simile o almeno mi ricorda l'altro che ho che si chiama Manifest e che vi avevo già fatto vedere in un altro video così molto velocemente. La particolarità di questo libro è che oltre ad essere pieno di illustrazioni che ha proprio delle parti di journaling e delle parti dove ci sono degli esercizi sulla gratitudine, un goal tracker quindi per tenere traccia dei propri obiettivi e tante altre cose che ancora devo scoprire e non appena avrò un momento per sfogliarlo con più calma ve lo farò sicuramente vedere perché penso che ne vale la pena. Quindi i libri sono arrivati e sono super contenta così ve li ho fatti vedere. Adesso torno di là, mi rimetto al corso e oggi pomeriggio invece mi dedicherò più alla parte di birole quindi di riprese perché ho bisogno di inserire alcuni pezzi di video all'interno di alcune lezioni che ho già registrato. Ho fatto una breve fermata in cucina e mi sono preparato una tisana così mi tiene un po' caldo. Accendo anche la candela che crea questa atmosfera rilassante poi mi tiene un po' compagnia in questo pomeriggio e a questo punto direi che sono pronta per iniziare le riprese. Come vi dicevo all'inizio di questo vlog intanto vi anticipo alcuni contenuti che usciranno a dicembre qui sul canale. Un video per me molto atteso è quello sulla costruzione di una vision board e per che non conoscesse questo strumento è una bacheca che può essere sia fisica che virtuale dove si realizza una raccolta di immagini che esprimono i nostri desideri tutto questo con lo scopo di visualizzarli e raggiungerli. Io ne ho sempre voluto fare una e quest'anno sarò veramente felice di costruire la mia prima con voi. Passiamo al secondo contenuto entrando questa volta in tema natalizio. Voglio proporvi un video tutorial in cui vi faccio vedere come confeziono i regali di Natale. Saranno pacchi dai colori molto tenui e neutri, sostenibili perché non verrà utilizzata plastica ma solo carta e saranno accompagnati da biglietti sempre fai da te e quindi vi darò alcune idee per questo Natale in arrivo. L'ultimo video sarà sul journaling e sarà molto simile all'ultimo che vi ho postato su questo tema e sarà una sessione di journal with me di fine anno. Intanto fuori si è fatto buio quindi è ora di smontare tutta l'attrezzatura. Scarico i video al computer e successivamente scaricherò anche tutti i filmati che ho fatto oggi per questo video, questo vlog che vedrete giovedì. Per concludere la giornata faccio la mia solita to do list per il giorno dopo così che non devo organizzare la mente domani e perdere del tempo e individuare cosa devo fare. Sono le sette e mezza e quasi ora di cena e intanto che aspetto Davide mi rilasso un po' qui sul divano con un libro e Candela l'ho portata con me perché ormai è diventata la mia fedele compagna per oggi. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia oggi con questo vlog e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti.